Buongiorno a tutti, sono Giano Vander e sono qui per promuovere l'hashtag Io resto a casa e leggo, per riscoprire il piacere della lettura. E per farlo vi consiglio questo bellissimo libro, ecco qua, di Jean-Claude Hizzo, uno dei più grandi esponenti del noir, Aio, menta e basilico, di cui mi appresto a leggere una piccola parte. Mi ero ripromesso di fare questo il giorno di Natale, andare in prigione e vedere Joel, portarle un regalo, parlarle, parlarle soprattutto. Cinque anni fa io ero ancora uno sbirro, aveva ucciso il suo ragazzo. Hakim, 18 anni, con tre coltellate, senza motivo, se non la sua paura. L'aveva ucciso dopo aver fatto l'amore con lui. Non ero riuscito a strapparle neanche una frase a Joel, nemmeno una parola. Nel suo diario aveva scritto, cosa ho fatto per avere paura? E più avanti, non è una paura normale che ti prende così nei momenti di incoscienza, non è la paura del ridicolo che ti inchioda il tuo amore in quanto tale, è una paura profonda e senza uscita. Tra lei e la sua paura aveva scavato un baratro, la morte, il delitto, quello della persona che più amava il mondo. Mi ricordai che, affidando Joel ai giudici, mi ero detto il comportamento umano non è logico, e il crimine è umano. Poi non ci avevo più pensato. Evitavo di pensare, di riflettere. Nella mia mente avevo chiuso tutti i libri che cercano di dare un senso alle nostre azioni. E mi tenevo alla larga da ogni riflessione sensata. Andavo a pesca, facevo camminate nelle calanche, mi prendevo il tempo di cucinare per qualche amico, e vuotavo con impegno bottiglie di buon vino di Provenza. «Ehi, ma mi stai a sentire?» disse Fonfon. Aveva appena stappato una bottiglia di bianco. Pui, sans reparade. Ne avevo portati a casa venti litri.